Quando si vogliono fare le cose si fanno, io credo, lo dico da italiano, lo dico da ministro, prima di rinunciare a fare una parte, svolgere una parte dei giochi olimpici in Italia bisogna fare tutti i tentativi possibili. Non vedo perché bisogna andarli a fare in Svizzera, non è privo di qualsiasi senso quando ci sono degli impianti in Italia, anche perché poi ci sono tutte le ricadute turistiche, visto che bisogna fare degli investimenti. E poi qui si potrebbero svolgere i campionati mondiali in futuro, come è utilizzata ogni anno una parte dell'impianto, si può utilizzare tutto l'impianto ogni anno. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani, in visita martedì 31 ottobre all'impianto olimpico di Cesana Pariol, ha tenuto più che aperta la porta all'ipotesi che sia proprio la pista Valsusina ad ospitare le gare a cinque cerchi di Bob, Slitino e Skeleton nel febbraio 2026. Al vicepresidente Tajani, che era accompagnato dal sindaco della città metropolitana di Torino Stefano Lorusso, dal vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, sono state mostrate la pista, il pistino di spinta e i fabbricati del complesso olimpico di Torino 2006, per i quali ha mostrato interesse e apprezzamento. Resta ora da vedere se la presenza del vicepremiere e del ministro Zangrillo a Cesana di per sé basterà rafforzare l'opzione italiana nella difficile partita che si è aperta dopo l'impossibilità di realizzare la pista a Cortina.